Porniamo a Parigi, sono deciso di arrivare a Roma. E' la prima occasione con la quale l'amministrazione, assieme ad altre realtà molto importanti, la Film Commission e il Cineforo del Labirinto, vuole lanciare a Treviso l'attenzione sul tema della produzione cinematografica. E città cinematografica. Treviso Film Commission, organismo nato e voluto dal Consorzio di Promozione Turistica, continua a promuovere la marca presso le produzioni cinematografiche, televisive, pubblicitarie, nazionali e internazionali. Mettere sul cinema tutto ciò che Treviso vuole mostrare, vuole offrire e vuole dimostrare. Il cinema è un veicolo importantissimo, direi a giorno d'oggi fondamentale, con un costo tra l'altro a persona molto molto inferiore di quanto si possa pensare. Tre le sezioni del concorso, il premio Vincenzoni, quello su una storia veneta e l'omaggio a Omo Bono Tenni, sezione ispirata alla figura del leggendario pilota motociclistico, vinta proprio da una trevigiana. Abbiamo avuto 58 soggetti con 70 soggettisti, nel senso che alcuni soggetti sono stati iscritti a più mani. Quindi considerando che si trattava della prima edizione, il risultato è senz'altro molto soddisfacente. Sabato saranno presenti i giurati del calibro di Umberto Contarello, sceneggiatore della grande bellezza, Francesco Massaro, aiuto regista di Pietro Germi, il regista Enrico Vanzina, presidente, probabilmente assente per motivi familiari, Vittorio Sgarbi. Grazie. Grazie. Grazie.